Oggi tuo papà ti ha prestato 25 euro. Anche tua mamma ti ha prestato 25 euro. Quindi adesso in totale hai 50 euro. Dopo al negozio spendi 45 euro. Ora ti rimangono soltanto 5 euro. Incontri un tuo amico e gli dai 3 euro. Ora ti rimangono soltanto 2 euro. Poi a tuo papà gli ridai 1 euro. Anche a tua mamma le ridai 1 euro. Adesso ad ognuno devi ancora 24 euro. 24 e 24 fanno 48 euro. Poi il tuo amico ti ridà 3 euro. In totale ci risultano 51 euro. Domanda da dove viene 1 euro se ne avevi 50?